La predicazione di Pietro, il giorno di Pentecoste, fa trafiggere il cuore della gente. Quello che voi avete è il crucifisso e il risorto. A dire queste percosse si sentirono trafiggere il cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare? E Pietro è chiaro, convertitevi. Convertitevi. Cambiare vita. Voi che avete ricevuto la promessa di Dio, e voi che vi siete allontanati dalla legge di Dio, tra tante cose vostre, tra idoli, tante cose, convertitevi. Tornate alla fedeltà. Convertirsi è questo. Tornare ad essere fedeli. La fedeltà. Quell'atteggiamento umano che non è tanto comune nella vita della gente, nella nostra vita. Sempre ci sono delle illusioni che attirano l'attenzione, e tante volte noi vogliamo andare dietro a queste illusioni. La fedeltà. Nei tempi buoni e nei tempi brutti. C'è un passo del secondo libro, delle croniche, che a me colpisce tanto. Nel capitolo 12, all'inizio. Quando il regno fu consolidato, il re Roboammo si sentì sicuro e si allontanò dalla legge del Signore. E tutto Israele lo seguì. Così dice la Bibbia. È un fatto storico. Ma è un fatto universale. Tante volte, quando noi ci sentiamo sicuri, incominciamo a fare i nostri progetti. Ci allontaniamo lentamente dal Signore. Non rimaniamo nella fedeltà. È la sicurezza mia. non è quella che mi dà il Signore. È un idolo. È questo che è accaduto al Roboammo e al popolo di Israele. Si sentì sicuro, il regno è consolidato. Si allontanò dalla legge e incominciò a dare colto alle idoli. Sì, possiamo dire, no, Padre, io non mi inginocchio davanti alle idoli. Forse non ti incinocchi, ma che tu li cerchi e tante volte nel tuo cuore adori gli idoli. È vero, tante volte, la propria sicurezza apre la porta agli idoli. Ma è cattiva la propria sicurezza? No, è una grazia. Essere sicuro. Ma essere sicuro anche che il Signore è con me. ma quando c'è la sicurezza e io al centro e mi allontano dal Signore come il re Roboammo divengono infedelle. È tanto difficile conservare la fedeltà. Tutta la storia di Israele e poi tutta la storia della Chiesa è piena di infedeltà. Piena. Piena di egoismi, di proprie sicurezze che fanno che il popolo di Dio si allontani dal Signore perda quella fedeltà. La grazia della fedeltà. E anche fra noi, fra le persone la fedeltà non è una virtù a buon mercato, certamente. Uno non è fedele all'altro, all'altro. Convertitevi. Tornate alla fedeltà al Signore. E nel Vangelo l'icona della fedeltà quella donna fedele che non aveva dimenticato mai tutto quello che il Signore aveva fatto per lei era lì fedele. davanti all'impossibile davanti alla tragedia una fedeltà che la fa pensare che è capace di portare il corpo un'altra volta una donna debole ma fedele. l'icona della fedeltà di questa Maria di Madala apostola delle apostoli. chiediamo oggi al Signore la grazia della fedeltà di ringraziare quando Lui ci dà sicurezza ma mai pensare che sono le mie sicurezze e sempre guardare oltre le proprie sicurezze la grazia di essere fedeli anche davanti ai sepolcri davanti al crollo di tante illusioni la fedeltà che rimane sempre ma non è facile mantenerla che sia Lui il Signore a custodirla. Grazie a tutti.